Salve a tutti ragazze e ragazzi Oggi andremo con la Playstation che sta affondendo E questa voce molto rossita Benvenuta nel mio mollino Andremo a giocare, attenzione, c'è un problema Installazione in corso di cosa? Di cosa? Vaffaculo, sto installando un aggiornamento di merda Non voglio l'installamento di merda Ma che è l'installamento di merda? Comunque ragazzi, siamo qua In questo video su Watch Dogs Che l'avevo detto ieri Spero di farlo uscire quest'oggi Oggi dovrebbe essere venerdì e ieri Dove essere giovedì Se appunto il calendario è rimasto quello Degli antichi romani Comunque ragazzi, oggi sono qua In questo video molto pazzerello Diciamo pazzerello, proprio così Pazzerello Non so bene ogni tanto che mi muovo Quanto si è messo a fuoco la webcam Mi dispiace davvero tanto perché Non riesco a capire Comunque Aspettiamo Cioè ci smettiamo Per come saranno 10 secondi Magari per me sono 10 ore Appena finisce qua l'installazione Ci becchiamo direttamente In partita, non lo so Nel mondo Che andremo a conquistare First, let me take a selfie A shakila palapapapapa A shakila palapapapa 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 Dai si Si ragazzi Si ci siamo Carichi al 100 per 100 Subito E prendiamo su Continua Non so l'ultima volta che ho giocato a Watch Già non è manco da Non lo so Pochi giorni fa Ho giocato per l'ultima volta a Watch Dogs Che vi ho registrato delle piccole cosette Che vi porterò nei prossimi giorni Comunque Sto rando su questo ragazzi Oggi siamo carichi Oggi conquisteremo il mondo Oggi trollerimo la gente Ehi tu Piccolo molestatore Cosa stai facendo qua? Scusi Scusi È entrato dentro il muro Non ci credo raga Mesi sono passati dall'uscita di questo gioco Quasi un anno E ancora c'è stato un istituto bug di merda Poi loro Non si conoscono più Signora Attenta Attenta Oh mio dio Non ci credo È uccisa Nasconditi Nasconditi James Bond Nasconditi Nasconditi Come cazzo ci si nascondeva Oh che figata Non mi ricordo Non mi nascondeva Seguila Seguila È avvistata L'è avvistata la signora Abbiamo cambiato il bersaglio Abbiamo cambiato il bersaglio Troviamone un nuovo Scopare 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 Spara Spara Tagli Mamma mia Reputazione da Cioè Ottio ha laggato Ha laggato a bestia Scappiamo 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 Ci hanno visto Ci hanno visto Ci hanno visto Ragazzi Ci hanno visto Ci hanno visto La fuga La fuga Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant No 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 no, se la facciamo? SIIIIIIIIIIIIIIIIII quando non può stiusciamo ci riusciamo mamma mia tu 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 non lo so pronti pomm chi era il criminale l'idea per caso Morite tutti Oddio Ragazzi L'avete visto Proprio lì Poi non uno Ma due Due L'unica risposta che gli si può dare L'unica risposta che gli si può dare Complotto Missione ruba smartina Io non mi ricordo come cazzo si corre Ma che James Bond sei se non trovi l'uscita E rimani bloccato Ma puoi sapere le macchine dove sono arrivate Tutte dall'anno Panico In una strada Ho un quarto di video Sì Ho un quarto di video Bene Scommettiamo Mille Un milioni Yeah Scopare No raga L'idea è assurda L'idea è assurda Frenare Mamma mia che pro player Basta me sono tutto il cazzo Vabbè ragazzuoli dopo questa enorme sconfitta Questo video finisce qua Io mi sono divertito Spero che vi siete divertiti anche voi a vederlo Sicuramente credo di essere divertito anche molto A montarlo Credo dovrebbe essere venuto abbastanza fido Abbastanza carino Sono tipo 50 minuti che registro Verrà un video di massimo 5 minuti Pensate un pochettino Spero che questo video vi sia piaciuto Ci becchiamo prossimamente con tanti nuovi video O perlomeno lo spero Se non l'avete visto andate a vedere l'ultimo video Che è uscito sul canale Ossia quello di ieri Che era appunto un vlog in cui vi spiegavo un pochettino Alcune cose per cui non ero solo presente Sia questi giorni C'è tutto un casino ragazzi Guardate gli ultimi due vlog che sono la cosa fondamentale Per andare avanti nella vita Altrimenti morirete da 3, 2, 1 Siete ancora vivi? Sorprendenti Comunque ragazzi sto rubrando sulle cose Pazzescamente pazzesche Vi saluto Vi ringrazio per aver visto il video Ovviamente vi ringrazio per il mi piace Che sicuramente voi lascerete qua sotto Lasciate anche un commento Scrivendomi qualcosa da fare Sia su Watch Dogs Che comunque vorrei cominciare una specie di serie Così tipo cazzeggio Su vari giochi Quindi diciamo Sbizzarate un pochettino con le varie idee Ci becchiamo prossimamente con tanti Nuovi video Seguivatevi sui social E... Bella!